Ma lui è la conclusione, la rete di Minamen torna a segnare l'Italia Ha un demonio totale, ma questo è un gol incredibile, ma che gol ha fatto Appassionati di palla a mano, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania Inquadratura subito che si apre, con Riccardo Trillini, ospite dei nostri studi Direttore tecnico delle squadre nazionali, ciao Riccardo, ben ritrovato Ti vedo per il momento abbastanza disteso, anche rilassato in volto, la pressione Diciamo che so mascherare bene Poi ci spiegherà i motivi della tensione Vedo il sereno anche Matteo Aldamonte Abbastanza Abbastanza Buonasera Un momento di distensione Sì, di distensione Non credo che ci sia tanta distensione nel massimo campionato Consigliando anche un po' l'andamento dei risultati delle partite Attenzione alta, esatto Perché abbiamo due squadre che in questo momento si stanno distinguendo in modo particolare Siena e Conversano che proseguono a punteggio pieno il loro cammino in vetta alla classifica E poi c'è il Cassano Magnaco che è staccata di un punto E comunque si sta confermando con un grande Savini peraltro in scia sulle altre Buone notizie, perciò è disteso e sereno Direi di sì Poi ci ragguaglierai sull'argomento Diamo un'occhiata se sei d'accordo al servizio Sì, vediamo cosa è successo Vediamo Siena e Conversano davanti a tutte le altre Ci sono Toscani e Pugliesi alla guida della classifica della Serie A1 maschile Dopo la terza giornata disputata nel fine settimana Percorso netto per entrambe solo vittorie Di peso l'ultima in ordine temporale ottenuta dalla squadra allenata da Alessandro Fusina Che con un'invenzione last second di Radovcic batte 23-22 il pressano al palaestra E ora si prepara la prova del fuoco di sabato prossimo Quando, sempre in casa, il calendario riserverà la sfida contro i campioni d'Italia del Bolzano Quello tra Siena e Bolzano sarà indubbiamente il match clou della quarta giornata Tanti gli ex illustri Da Coach Fusina a Demis Radovcic Passando per Vito Fovio, ancora infortunato però Tutti i protagonisti della storia vincente della squadra altoatesina Quanto a Conversano, compatta e concentrata La formazione di Tarafino supera l'ostacolo Trieste In una delle grandi classiche della palla a mano italiana La trasferta di Bressanone La prossima da affrontare per Giannoccaro e compagni Sarà un'ulteriore prova di motorità su un campo sempre ostico Quarta giornata ad alta tensione anche per il Cassano Magnago Anche i Lombardi hanno mantenuto l'imbattibilità nei primi 180 minuti stagionali Racimolando però un punto in meno del duo di testa E classifica alla mano Uno in più della Junior Fasano prossima avversaria al Palatacca Il rocambolesco pareggio rimediato a Colonia Ha lasciato buone sensazioni in casa Raimon Sassari Sensazioni da confermare però sul campo di Merano Battuto invece a Fondi Apparsi in crescita i laziali Che ora dovranno raggiungere l'alto adice Per affrontare la Piano ancora come Trieste A caccia dei primi punti in campionato Cercano riscatto Pressano e Gaeta Entrambe uscite battute nei rispettivi impegni di sabato Per i Trentini sarà una partita particolare Alla Palavis a una settimana Dalla tragica scomparsa dello storico dirigente giallonero Giorgio Chistè Direttore possiamo parlare di equilibrio inatteso Di sorprese guardando la classifica Che ora la legge ci propone e vedendo in vetta la classifica Conversano e Siena Già l'anno scorso il campionato era molto equilibrato nelle singole partite Molte partite erano terminate di 1-2 gol Quest'anno è vero c'è più concorrenza perché Siena e Cassano hanno qualcosa in più dell'anno scorso Per cui abbiamo delle squadre in più che lottano per vincere il campionato O quantomeno per arrivare fino ai playoff competitive Ma consideri Siena una sorpresa? Vedendola lì in testa la classifica Conversano in fondo è riduceggiata a un'ottima stagione Siena non è una sorpresa perché ha fatto un'ottima campagna acquisti Ha messo insieme degli ottimi giocatori E ora forse l'unico dubbio è che è più difficile creare un gioco Creare un'amalgama anche come squadra Per cui bisognerà vedere quello che riesce a fare Fusina Che ha un compito più difficile degli altri Meno difficile appunto da questo punto di vista è per Coles Che aveva già una grande ossatura di giovani E con il suo modo di giocare li coinvolgeva tutti Ha preso un giocatore che è quello che più si può adattare Certo Ha il suo tipo di gioco C'era un'altra volta che sembra nato insomma in quel gruppo Savini Ma c'è da dire la verità che Savini secondo me si sarebbe integrato dovunque Perché oltre che a me piace tantissimo come giocatore È un ragazzo eccezionale con caratteristiche morali umane fantastiche Per cui sarebbe andato bene dovunque Parlavi di Fusina? Che sicuramente Eh beh penso che sia piuttosto contento Disteso non lo so perché sabato arriva la sua ex squadra Arriva il Bolzano è un'altra super prova Per Siena che intanto si gode un Demis Radovcic Stratosferico che ha inventato il gol della vittoria Ascoltiamo Fusina dopo la partita contro il Pressano Siamo molto contenti Molto contenti perché è stato veramente un inizio di stagione molto positivo E credo che abbiamo ancora tanti ampi margini di miglioramento E adesso ci godiamo questa vittoria Domani riposiamo È giornata dedicata alla famiglia Per cui riprendiamo con la testa al lunedì dove cominceremo gli allenamenti Preparandoci per questa ulteriore grande sfida contro i campioni d'Italia in carica del Bolzano E Conversano? Conversano è abbastanza favorito perché ha una difesa incredibile In base di presentazione della stagione consideravano questo Conversano un gradino sotto La squadra della passata stagione Perché forse ha perso alcuni giocatori Stabellini Stabellini e Pivetta che erano comunque uno in nazionale Un altro c'è appena stato Come se avesse perso qualcosa Ma secondo me ha guadagnato anche in difesa Perché poi ha una formazione che tutti gli attaccanti possono difendere Può Tarafino non fare cambi attacchi e difesa E soprattutto ha molti difensori nella zona centrale Questo dà la possibilità di giocare in maniera molto più intensa È un conversione però rispetto all'anno passato Partito un po' con lo profile Con un profilo un po' più basso L'anno passato sembrava costretto quasi a dover rispettare i favori del pronostico Invece quest'anno è partito in maniera un po' più solida Un pochettino a cuore più leggero rispetto all'anno scorso Anche perché rispetto all'anno scorso ha il brio di giocatori più giovani E ha in meno l'esperienza di Pivetta, Stabellini e Maione Che insomma sono tre giocatori che di campo ne hanno calcato parecchio Ascoltiamo, ascoltiamo Goccia Tarafino Intervistato proprio al termine della partita vinta dal Conversano Nello scorso Di positivo da come la vedo io non c'è tanto Non c'è veramente tanto, c'è poco di positivo C'è il risultato Che alla fine un piccolo momento di reazione in difesa c'è stato Abbiamo recuperato qualche pallone E siamo andati in vantaggio di qualche gol di sicurezza Questa squadra non è questa che abbiamo visto stasera Ma può sicuramente dare del filo da torcere anche alle squadre Queste che hai nominato tu prima Ovviamente partendo dalla prossima già a Bressanone È una partita molto complicata in trasferta Ci pensiamo questa settimana Adesso analizzeremo bene le nostre difficoltà Le problematiche che abbiamo avuto E poi rimango comunque fiducioso Ecco Trini, questo campionato così è equilibrato Poi la storia ci racconterà Se è un equilibrio verso l'alto o verso il basso Insomma questa è una disputa infinita Tu hai una tua versione Hai una tua convinzione a proposito dell'equilibrio Un equilibrio verso l'alto o un livellamento verso il basso Quello che stiamo registrando e raccontando Secondo me verso l'alto Lo vediamo soprattutto in alcune formazioni della 2 Che tempo fa avrebbero fatto molto bene in A1 E oggi dovranno guadagnarsi la promozione in A1 Ma dal mio punto di vista io lo vedo in un'altra situazione Tutti i nostri ragazzi del 2000 e 2001 Che è diciamo la nazionale più ricca di talenti Che dovranno difendere questo titolo conquistato l'anno scorso Stanno giocando tutti in A1 Se non giocano fanno parte di queste formazioni Questo vuol dire che le squadre si sono arricchite di giocatori Che permette un gioco diverso E per cui è sicuramente migliorata Quindi hai questa percezione anche osservando le partite Attraverso la nostra diretta handball Riesci insomma È un movimento È un campionato quello di A1 Che tende insomma a progressivi e sostanziali miglioramenti Secondo me si sta migliorando gradualmente Non si stanno facendo miracoli Bisogna sempre pensare Che certi campionati all'estero sono di un altro livello Per alcune squadre attenzione bene Perché in altre sono del nostro livello Noi dobbiamo guardare secondo me Alla professionalità dei club Far sì che rendano i giocatori sicuri Di scegliere il mestiere del giocatore di pallamano Questo aiuta nella crescita E vedo che c'è molta più attenzione in questo Sia più attenzione agli staff tecnici In maniera che appunto L'equilibrio nasca anche da questo Dal buon lavoro Assolutamente Non solo dagli stranieri che potranno arrivare E volendo trasformare tutti questi concetti In una prospettiva azzurra Cosa significa e cosa dobbiamo attenderci Entriamo nell'argomento anche se manca un po' di tempo A gennaio l'Italia è attesa da una prova importante Qualificazioni ai mondiali, si gioca in Italia Avversari importanti come la Romania, Georgia e Kosovo Decisamente più alla portata Ma comunque da affrontare e da non sottovalutare Parlando di nazionale ci troveremo a gennaio Dopo quasi due anni dall'ultima qualificazione ai mondiali Con una consapevolezza in più Abbiamo sicuramente in due anni acquisito l'amalgama del gioco Abbiamo più fiducia in noi stessi E affronteremo di nuovo la Romania Con la quale abbiamo giocato per 52 minuti alla pari Poi abbiamo perso di 10 Ma non era sicuramente il risultato giusto Perché abbiamo giocato in 7 e ci è andata male Per cui il meno 10 io lo addebito a questo tipo di gioco Abbiamo tanta fiducia Chiaramente non sottovalutiamo Anche un'Italia diversa Quella che è cresciuta sotto ogni aspetto Abbiamo lavorato molto in questi due anni Per cui proprio dal punto di vista del gioco è molto migliorata Stanno arrivando indicazioni importanti anche dal campionato Novità possibili dall'Italia Anche dall'estero Diciamo che riguardo alla domanda su cosa può portare alle nazionali Questo tipo di campionato L'ho già appena detto Penso il beneficio maggiore lo avranno i 2000-2001 Da Sciorci fino ai Mengon Tutti stanno giocando campionati E si allenano da professionisti Le novità di giocatori per la prossima convocazione Ancora presto per dirlo Abbiamo del tempo ma io sono per continuare Sulla squadra che ha ben fatto contro Russia e Ungheria Perché E Slovacchia Chiaramente Slovacchia Ha dato dei buoni frutti I ragazzi stanno bene insieme Guardiamo sempre il campionato Nessuno deve avere il posto sicuro Porta è sempre aperte Per forza È la fortuna della nazionale Anche la tua fortuna di poter scegliere tra così tanti giocatori Parlava di giovani prodotti del vivaio italiano Ce n'è un altro che sta facendo bene in Francia Assolutamente sì Si tratta di Andrea Colleluori L'enfant prodige tra i pali della nazionale italiana Ne ha parlato benissimo Vito Fovio Che credo sia innamorato di lui È stato intervistato sul sito del Nantes Che è la squadra che lo ha prelevato Dal campionato italiano Dopo l'esperienza con il Cingoli Lugic è originario di Città Sant'Angelo in Abruzzo Stiamo vedendo appunto le sue parole È un'intervista un po' a 360 gradi Su questa esperienza in Francia Lui sta giocando nella terza Lega francese Perché le accademie delle grandi squadre Come è accaduto e accade anche per i Mengon Giocano nella terza Lega francese Ma sta avendo la possibilità di mettersi in mostra Futuro assicurato a mio avviso Sotto questo aspetto Insomma l'Italia è in buone mani No? Ebner, Volarevic Colleluori Insomma Senza ombre di dubbio Con Ebner abbiamo fatto 13 Perché Ne possiamo Giovare fin da subito Con la senior Con Colleluori abbiamo il futuro Anche adesso sarebbe in grado di giocare A mio modo di vedere Ma con questa esperienza in Francia Lui potrà solo migliorare E come per Savini Bisogna elogiare Colleluori Che ha un carattere incredibile Una serietà pazzesca Per cui ci possiamo scommettere Assolutamente sì Restiamo in Europa Matteo Eh sì E gli auguriamo ai ragazzi come andrea Di arrivarci prima possibile Champions League ha vinto il Chi e la sorpresa Contro il Vesprem Nel match of the week Questa è la top 5 goals della settimana Iniziamo dalla posizione numero 5 Con questo gran sottomano Da parte di Vujovic Giocatore del Motor Zaporosce Bordata Che batte Wolff Il nuovo portiere del Chielse Alla posizione numero 4 Questo goal acrobatico Da parte di Ljukanciuk Del Cox Squadra finlandese Che è cresciuta tanto in questi anni Aveva affrontato in Challenge Cup Qualche anno fa il Pressano Se non ricordo male Questo è un goal Alla posizione numero 3 Da parte di Rabek Giocatore del Tatran Preshov Squadra simbolo Del campionato slovacco C'è Magnus Rod Invece Il terzino destro Del Flensburg Alla posizione numero 2 Anche qui un goal acrobatico Che possiamo riapprezzare meglio Nel Reprei E alla posizione numero 1 C'è Rickerson Che era stato numero 1 Anche la settimana scorsa Che fa un goal Stratosferico Con un gesto con il pozzo Girella Stratosferica Giocatore del GOG Una formazione danese Il fatto che una squadra finlandese Stia disputando La Champions Deve in qualche modo Anche stimolare La palla a mano italiana Cioè Bisogna lavorare Piedotto a livello societario A livello Insomma Manageriale Però Insomma Nulla può essere percuso Perché non sognare? Ma sì Ma questo è un aspetto Noi direi Che come Federazione Dobbiamo guardare il movimento Un po' di tutti L'attività Di base Le società Che produttano Non credo che il movimento Di base della Finlandia Sia superiore Rispetto a quello italiano Stavo dicendo Che questa è una cosa Che dovremmo fare noi E poi Queste squadre Che si affacciano Alla Champions League Secondo me Sono casi isolati Che dipende un po' Dal Dal magnate di turno Dal magnate di turno Per cui Ce l'hanno avute Tutte le nazionali Tutte i paesi Se succederà in Italia Io sarò solo contento Assolutamente sì Beh è un auspicio Insomma anche un invito Per chi abbia voglia Di investire un po' Di danaro Insomma nella palla a mano Il ritorno E assicurato Soprattutto a livello Internazionale Ora ci fermiamo Andiamo in pausa Poi ritorniamo in studio Per aprire Un'ampia parentesi Sul movimento femminile Sulla nazionale azzurra In modo particolare Passione Emozione Adrenalina Estasi A novembre La caca magica di Madrid Si tinge d'azzurro Vai sul sito federtennis.daviscupfinals.it Ed acquista uno o più biglietti Per seguire dal vivo Gli azzurri di Coppa Davis Inoltre Scegli il tuo soggiorno ideale E assicurati la possibilità Di vivere L'incantevole atmosfera di Madrid Aggiungendo una delle experience Che amusement Ha immaginato per te Colora anche tu I tuoi sogni d'azzurro E sostieni la squadra italiana Di Coppa Davis Altra metà del cielo Colorata anche questa Di azzurro Impegno in Montenegro Per la nazionale italiana Primo impegno Nella giro di qualificazione Per Euro 2020 Vediamo subito il servizio L'Italia femminile Viene superata dal Montenegro A Plievlia Nella sua gara d'esordio Nelle gruppo 2 Di qualificazione A Euro 2020 Di Norvegia e Danimarca La sfida termina 41-17 In favore Delle padrone Di casa Grandi favorite Per il passaggio Del turno Assieme a Lungheria Prossima avversaria Delle azzurro Il 29 settembre Allignano sabbia d'oro E un'Italia con tante giovani Quella che Neve Ruppets Schiera in campo Opposta ad un Montenegro Che invece Si presenta al completo Determinato ad archivare La pratica Qualificazione Quanto prima Se possibile Già nel doppio turno Della prossima primavera Diversi Perciò anche gli obiettivi Di fondo Con l'Italia Orientata ad acquisire Esperienza Internazionale preziosa Netto nei numeri Il gap Montenegro Detta subito legge Al quarto E avanti 4-0 Prima rete italiana Con un jog up Classe 2001 Al primo gol in maglia azzurra Dopo 6 minuti A una segnatura ospite Le padrone di casa Fanno corrispondere A un nuovo allungo 7-1 nel mezzo Il mini parziale 2-0 Di Gheorghe E dalla costa Fino poi al 12-4 Dopo il primo quarto d'ora Si va al riposo Con Montenegro Avanti 20-9 Per l'Italia Positiva La serata al tiro Di Ramona Manojlovic Un'altra giovanissima Per lei 5 gol all'attivo Nel secondo tempo Non cambia nulla Montenegro controlla E vince 40-17 Prendendosi l'intera posta In palio Per l'Italia Ora all'orizzonte C'è un altro banco Di prova durissimo Contro l'Ungheria Nuova avversaria Di prima fascia Del panorama europeo Stavolta in casa Al Palabella Italia Di Lignano Sabbiadoro Domenica Con affischio d'inizio Alle ore 17 E diretta Su 11sports.it Archiviamo La trasferta in Montenegro Però prima di ragionare Con Riccardo Trillini Delle prospettive Del movimento femminile È giusto fare Un focus Su quella che è la situazione Per queste gare Di qualificazione Alle finali Di questi europei Del 2020 Che si giocano In Norvegia E Danimarca Due nazioni Contestualmente impegnate Già qualificate E nella fase Dei gironi di qualificazione Passano le prime due Per ogni raggruppamento Stiamo vedendo anche Quelle che sono Le classifiche dopo le gare Giocate in questo primo turno E si replica Nel fine settimana Italia compresa Ecco Riccardo È ripartito un nuovo ciclo C'è poco da Da raccontare Insomma Squadra molto giovane Con molte ragazze Che hanno preso parte In maniera anche brillante Alle finali Under 17 Che F Championship Di Lignano È una scelta Quasi obbligata Direi di sì Perché innanzitutto Il valore di queste ragazze Dà subito La possibilità Di poterle vedere in campo Per cui Bene fargli fare Dell'esperienza Ai massimi livelli Ce lo ritroveremo Fra un po' di anni Il percorso decidente È più lungo questo Sicuramente Anche perché Differenza del maschile Il campionato Dà di meno Certo Le convocazioni Sono più facili La difficoltà Dell'allenatore Sta nell'integrare Appunto Queste giovani Under 17 O come la Ghilardi Poco più grande Con le altre Senior E mettere insieme Un gioco E dare appunto Una speranza Per i prossimi anni Diciamo Dicevo del campionato Dio 1 Femminile Che ora è fermo Proprio per il doppio impegno Della Nazionale Azzurra Si torna in campo Il prossimo 5 di ottobre Nel frattempo Però Le tre squadre Quattro Compresa la Riosto Ferrara Con Loderzo Salerno E Bressanone Sono tutte A due punti In vetta A sorpresa C'è una neopromossa Che mestrino Naturalmente Ancora troppo presto Vediamo il servizio Troppo poche due giornate Questo dice La Serie A1 Femminile Che con le qualificazioni A Euro 2020 Della Nazionale Si ferma Fino al 5 ottobre Lascia in eredità Una classifica Ancora tutta da fare Il trio Che aveva combattuto Per il tricolore Lo scorso anno È bloccato a due punti L'unica A punteggio pieno È una neopromossa Mestrino Che guarda tutte dall'alto Debutto vincente Comunque per Salerno Che al palapalumbo Batte la Riosto Ferrara Nel big match Il confronto termina 31-26 Frutto di una sfida Controllata senza Eccessivi patemi Dalle campionesse d'Italia Nella gara delle tante ex Landri e Piantini Passate a Ferrara Per Taler A difendere i pali Delle campane Spicca Dopo il 4 all'intervallo Il ritorno prepotente Delle Emiliane Fino almeno uno Dopo 44 minuti Al bivio I due punti Prendono la strada Di Salerno Accelerazione fino al 29-24 E partita assegnata Con le padrone di casa Che nel mentre Si godono la ritrovata Vena realizzativa Di Trombetta Autrice di 6 gol Tra le migliori Marcatrici dell'incontro L'inseguimento Alla vetta del Brestanone Inizia con una settimana Di ritardo Sull'avvio della stagione E comincia dall'Alto Adige Ne fa le spese Nuoro sconfitto 29-16 Dalla formazione Allenata da Ubi Nessing Due vittorie consecutive Mestrino Si dimentica Di essere neopromossa Dopo i due punti Raccolti in trasferta Nuoro sabato scorso Stavolta E ha il Palalissaro A regalare Gioiale Venete 25-20 alleno Come in Sardegna Protagonista Ancora Lucanini Con 6 segnature Parità 24-24 Infine Tra Cassano Magneco E Casalgrande Come dalle attese Al Palatacca Avviene fuori Una vera e propria Guerra di nerdi Le Lombarde però Si rammaricano Al 55esimo Conco Bianchi La loro ultima rete Per il 24-22 Tesi Animati Gli attimi conclusivi Giombetti accorcia Sul meno uno Decide Furlanetto Dai 7 metri Col pareggio finale Che assegna Un punto per parte Allora Riccardo Si è detto In fase di presentazione Un campionato Rispetto agli anni passati Probabilmente Più equilibrato Già quello dell'anno passato È stato decisamente Più equilibrato Questo sembra Almeno nelle primesse Esserelo ancora di più Con Salerno Che si è ringiovanita Molte giovani Ariorso Ferrara Oderso Bixen Che si sono rinforzate Dovremmo assistere A un campionato Anche più interessante Forse è dato anche La riduzione Del numero Sì Quindi una maggior Diffusione Le giocatrici Si sono Diluite Nelle 8 squadre Questo Non ci dimentichiamo Che anche Nella maschile Quando c'era l'elite Erano dei campionati A 8 squadre Un altro contesto Perché lì C'erano quasi Tutte le squadre Almeno le prime Non è propriamente Una cosa negativa Per aumentare Il livello Io penso che La situazione Della femminile In Italia Va vista Un po' A 360 gradi E magari Dedicare più Attenzione Alla base Quello che può essere La 2 femminile E il movimento Giovani E ridurre il vertice Esatto Per cui Non c'è niente di male Giocare Giocare in 8 L'importante Che ci sia Un bel lavoro Di tutta la settimana Di queste 8 squadre Allora Siamo praticamente Agli sgoccioli Sì Manca pochissimo Al gong finale Dobbiamo dare Gli appuntamenti Al fine settimana Velocissimi come sempre Grafica Con il club Che naturalmente È dato dalla partita Di domenica Tra Italia e Ungheria In diretta Alle 17 Su Eleven Sports E sabato Ad anticipare il tutto C'è la giornata La quarta giornata In regular season Su Palamano TV Per la serie 1 maschile Bene Grazie Grazie Riccardo Trillini Grazie a voi Bocca al lupo Tanto lavoro Comunque Di aspetto a coach Per poi presentare Al top A gennaio Una nazionale azzurra Capace di far sognare I tifosi Gli sportivi italiani Grazie a Matteo Aldamonte A Sabrina Alessio In regia Un prossimo appuntamento Giovedì prossimo Appunto Con Handballmania Arrivederci Buona Palamana a tutti Ma lui è la conclusione La rete Divina Men Torna a segnare l'Italia A un demonio totale Ma questo è un gol Incredibile Ma che gol ha fatto Grazie Grazie